Bene ragazzi sono BenWolfers e sono tornato su Clash Royale Abbiamo un baule da aprire quindi facciamolo subito Gigante Goblin, bello bello, ci piace, ci piace Andiamo subito in battaglia ragazzi Abbiamo bisogno di un po' di bauli Quindi almeno una vittoria vorrei portarmi alla casa, gentilmente Peccato che questo Fa06 della Zap4 Non è molto d'accordo essendo di livello 10 Come possiamo fare? Partiamo con dei lanceri da molto dietro Va E c'è arrivato quello che speravamo arrivasse Ah mamma mia quella strega Quanto la schifiamo e lo odiamo quella strega Voi lo sapete benissimo Tanto, tanto, tanto Ma aiutatemi a di tanto Eeeh Qui ci sta arrivando una merda che più merda non si può Zappiamo ma non credo, non credo Mai nella vita che riusciremo a difenderci Quella torre Vabbè, comunque pure lui la furia Eeeh La cattiveria di questo ragazzo La vedete? La state vedendo la cattiveria di questo ragazzo? Sì? No, perché se non la state vedendo Vedetela Mamma mia, porco demonio Una strega di livello 5 poi, eh Quelli all'11 Vabbè, date le ultime botte Perché non posso difendermi mai nella vita Ragazzi, quanto velocemente abbiamo perso? Porco Giuda Andiamoci a vedere i decchi di questo ma Non penso potevamo mai dirgli nulla E infatti aveva tutte le comuni all'11 Tranne una sfigata orda di sghieri al 10 Poi aveva un'epica al 5 Che non è un'epica qualsiasi E la strega La rara all'8 Le altre epiche erano normali Io direi che questa non conta Adesso siamo conto Alla is fast Della Fernando squad Un livello 8 come noi Attenzione Attenzione Facciamogli un attacco Totalo Mettiamo anche dei lanceri Su quella principessa Una zap Tutta la vita Qui Tutta la vita La zap Tutta la vita ragazzi Qui ci sta arrivando Un bell'attacco Mettiamo sia degli scheletri Che un cavaliere Perché abbiamo bisogno Di far fuori un minimo qualcosa Ragazzi abbiamo fatto fuori Più di un minimo qualcosa Perché comunque Ci siamo portati a casa Eh Barile Goblin Qua siamo con le braghe calate Ragazzi Siamo con le braghe Incredibilmente calate Ma incredibilmente Puh Incredibilmente Aiutatemi a dire Incredibilmente C'ha anche il boia C'hai anche il boia Sarai stronzo Secondo me si Allora qua sono costretto A mettere un gigante Royal Ah In tempo Però non so ancora Come difendermi Da quella principessa Che intanto Gli sta facendo Un lavoro fantastico Eh Qua dobbiamo zappare Altrimenti Tutto inutile Il nostro attacco Mandiamo degli scheletri Lui ha fatto una cosa Fantastica Con questa principessa Non c'è che dire Ci ha ridotto Veramente male Però adesso sappiamo Che ha anche i barbari scelte E quindi possiamo agire Di conseguenza Eh Qua abbiamo bisogno Di un po' di tutto Purtroppo c'è Quello stregone Di ghiaccio Che gli sta facendo Un lavoro Che mamma mia Il suo attaccarci Ad aria Ci ha devastato Di nuovo Ragazzi Siamo di nuovo Con le braghe calate Al suo prossimo attacco Con i barbari scelti Si Ci stanno arrivando Degli scheletri Ma capirai Eccoli qua appunto Eh Mettiamo degli scheletri Dietro Mettiamo anche Un cavaliere Niente da fare Soltanto le botte di uno E quindi la torre Ci saluta Allegramente Con neanche troppa Allegria Ci sta creando Un sacco di problemi Con la principessa Per cui può permettere Vesti il gusto Di cominciare un attacco Senza aver troppa Difficoltà Nel attaccare Anche l'altra lane Alla fine la principessa Costa un cazzo Ragazzi Diciamolo chiaramente Allora io qua direi Che una zap Ci sta tutta la vita Non posso Non posso zappare Per difendere Il gigante Royale Quindi sono costretto A far di questo Questa volta La mossa Era prevista bene Abbiamo mandato A segno Comunque Qualche truppa Ah Quella principessa Quella principessa Quante stronza Quella principessa Famo fuori Quella principessa Qui assolutamente Cavaliere Ok Ragazzi Va bene così Inutile dirvi Che lui ci può vincere Bene o male Quanto Come Dove Vuole Quel boia Ci crea un po' Di problemi Niente da Dirgli Principessa Lì a finirsi Quella torre Perché può Perché sì Perché no E infatti Così è Subito mettiamo Lui Qua abbiamo una zap Di una certa importanza Da lanciare Tra l'altro Vi ha un bel deck Zap beat Ah Peccato Almeno un'altra torre Ma la volevo prendere Un'altra Una torre Ma la volevo prendere E anche qui E' uno degli schiaffi Questo qui E' uno degli schiaffi Andiamo a vedere Un attimino E' bello Come decca Aveva le carte Poco poco Superiore a noi Ma non anche troppo D'altro aveva una gelo Che mamma mia Mai vista Qui continua A prendere schiaffi Allegramente E non portiamo a casa Corone Il che è male E vabbè Pure questa partita Siamo contro Un super cinese Di livello 10 Ma sarai stronzo No dillo Sei stronzo Lo so Mi regolo Di conseguenza E' Io direi Di mandare un cavaliere Assolutamente Un minatore E' un barile goblin Su quella struttura E' pure la torre C'hai Però 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 E' consumato Tanto di quelle Di sir Che non puoi fermarmi Goblin Ragazzi Guardate i goblin Quanto male Gli hanno fatto A noi questi goblin Piacciono E neanche poco Sinceramente Allora Qui la situazione Un po' particolare Perché noi possiamo mettere Un gigante royal Da casa nostra E poi dobbiamo mettere Eeeh Quello è male Quello è malissimo Non male Malissimo Cavaliere Mettiamo anche Dei scheletri Purtroppo Lui è riuscito A fermare L'arrivo Del nostro Eeeh Dei nostri sgherri Una bella veneno Però hai consumato Un po' di lisir Riesce a battermeli Quelli Non riesce a battermeli A noi ci piace E neanche poco E neanche poco Ragazzi Lì facciamo un po' di danno Su quella torre Lui ha sempre La torre Infernale Ricordiamocelo Ci sei Eeeh Mamma mia L'Italo Si è chiamato Tutta la vita Il minatore E' fondamentale Ragazzi Il minatore E' fondamentale Diamogli Qualche bottarella Purtroppo Di livello 6 Quindi ha dei punti vita Pazzeschi Subito Anche un gigante royale Che sta arrivando Anche lo stregone elettrico Non dico che me lo sento Ma me lo sento Ragazzi E beh Scusatemi Se me lo sentivo L'avevo detto Che me lo sentivo Si Eccolo qua Lo stregone elettrico Abbattiamolo Con un cavaliere Mandiamo anche Un barile goblin Eeeh Lì c'è una torre Che mamma mia Eeeh Facciamola fuori Facciamola fuori Nel frattempo Quei goblin Ci fanno un lavoro Spettacolare Ma veramente Spettacolare Su quella torre E non serve Neanche il minatore 3 a 0 Per noi Bella partita Ragazzi Non me l'aspettavo Sicuramente Contro questo avversario Mettiamoci subito Di sviluppo Questo baule Andiamo a vedere Che carte Ci aveva Eeeh Non ha giocato Il golem Ecco perché Ecco perché Ragazzi C'aveva un deck Strano Perché aveva un deck Con il golem E noi gliel'abbiamo Fatto giocare Bene così Ragazzi Io devi fare Un'altra partita Obiettivo Prenderci una torre Per aprirci baule Siamo contro Un altro livello 10 Mamma mia Ti Iaiden Della team DC Appunto Di livello 10 Abbiamo una partenza Che ci piace Quindi io direi Di sfruttarla Finché possiamo Santa pazienza Porco demonio Santa pazienza E porco demonio Allora qua Possiamo zapparli Purtroppo ci arriva Mezzo morto E pazienza Questo qui Lo finiamo In una maniera Magistrale Perché ragazzi Fatemi dire che Non è che ci siamo Comportati bene Di più Attiriamo via Assolutamente Attiriamo via Qualche sgherro Perché quelli Se no ci aprono il culo Siamo riusciti A costringerlo A dividere Il suo attacco Mandiamo Un barile goblin Con un minatore Cattivissimo Su quella torre Non c'era sicuramente Ah non hai mandato Una zap Prima aspettavo Una zap O delle frecce Se non me le mandi Mi fai un gran favore Io ti dico Grazie amico Io manderei Un cavaliere Su quello stregone Forse l'ho mandato Un po' troppo presto Ragazzi Dagliela Qualche bottarella Dagliela Qualche bottarella Allora Vediamo un po' Eeeh Aspettiamo che vada in hit Ok Mettiamo questo Mettiamo quest'altro Dobbiamo mettere anche un minatore Ragazzi Perché altrimenti Questi ci sfondano Allegramente Il sedere Possono farlo lo stesso Per carità Ah dannazione Qua è un bel attacco Ragazzi Questo è un bel attacco Ho preferito Non difendermi Con la zap Ero sbagliato Probabilmente Però ecco Sapevo che Sapevo che Siamo arrivati Anche loro E non era detto Che avevamo gli scheleti A disposizione Allora Siamo riusciti Ad abbattergli la torre Lui ha fatto lo stesso Probabilmente È esagerato Mettere anche Quel boscaiolo Noi comunque Cerchiamo di Abbatterlo In questo modo La partita Adesso è dalla sua Non c'è che dire Mettiamo il gigante Royale Un minatore Sullo stregone Che sta per arrivare Non sta per arrivare Lo stregone Non me l'aspettavo Ragazzi Questa cosa Questa invece Già era più Attesa Quanto meno Gobbilanceri Qui siamo riusciti A difenderci Magnificamente Ragazzi Palla di fuoco Tardivissima Non ho ben capito Il senso Di quella palla di fuoco Se non Farmi ringraziare Che l'ha mandata Qui sono costretto A dividermi In questo modo Non voglio sempre Consumare la zap Ragazzi Ve l'ho già spiegato Perché Inutile che ve lo ridica Lì sta arrivando Un gigante Royale Che è di una cattiveria pura Cavaliere Minatore Qui assolutamente Anche il nostro Mamma mia Se ci arriva La palla di fuoco Adesso Se ci arriva La palla di fuoco Adesso Ci arriva Ma Che peccato Ragazzi Che peccato Potevamo assolutamente Portare a casa Anche l'altra torre Non dico la partita Perché la torre centrale Ce l'ha danneggiata Un sacco Peccato Ha fatto bene Lui a continuare A attaccare la torre centrale E male noi A non difenderci Comunque l'obiettivo È raggiunto Ci pigliamo 5-5-5 di oro 2 gemme Dei goblin lanceri Gigante Doi Come se piovesse E pioverò anche Gangri goblin Infine 7 razzi Che comunque Non fanno mai male Ragazzi Io direi che per questo video È tutto E se vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Ed iscrivetevi Per vedere video nuovi Ogni giorno Grazie ragazzi Alla prossima Ciao Ciao